Ugo De Lucia, siamo qui per aspettarlo in diretta dallo Stanto, sì Ugo De Lucia, non ho sentito, dillo ancora, che comincia, dillo ancora, eh? Ugo De Lucia, che? Ugo De Lucia, basta, Ugo De Lucia, dillo ancora, Ugo De Lucia Scompiettanti Allora, anche questa settimana siamo in tre per la puntata 50, 50, 50 Ma io vorrei sapere tu come fai a stare con le maniche lunghe, Fabrizio È tutto di cotone, lo tengo sempre così poi È cotone proprio di cotone L'ho già la manica arrotolata qui per me è un mappo Ma è cotone Vuole essere sicuro al 100% di non essere bannato per capezzo di bannato Esatto, hai capito? Ma è cotonissimo E allora, subcomandante flematico, siamo in tre anche stasera Siamo in tre anche stasera Sì, sì, sì E finché reggerà, non sappiamo, finché non si adagerà nel suo tavolo Nella sua scrivania abbiamo... E' il santità, oggi bociornoso Bociornoso Bociornoso, che significa foso E Fabrizio è professional fibro, signori Che invece è inossidabile Perché si può permettere le maniche lunghe e destate Col caldo e col freddo è sempre... Con la fibromagia, bene La manica arrotolata col pacchetto di sigarette dentro, certo E soprattutto col fazzoletto di carta Oh, nella manica, sì Leo, te la senti? Te la senti? Ma guarda che oggi la stavo cantando Andando verso la macchina Per tornare a casa E mi è stato suggerito una certa Ma guarda, ma lo sai che sia una certa Butta un po' così Prendi il ghiaccio e metti dello sui capezzoli Così, altrimenti va bene Per i refrigeri però si può giustificare questa cosa Certo, certo, certo Così, boom Così Allora C'ho l'avatar pronto Vai, vai Via, via, via Io l'avatar non l'avatar pronti Non ho messo... Per sempre, solito Io ho l'ultimo terreno perché andiamo in vivo anche questa sera Ok Metto Demon Vai Demo, eccolo Un, due, tre Un, due, tre Un, due, tre Via Via Purpura Purpura Iubia Purpura Iubia Purpura Iubia Purpura Iubia Purpura Purpura Solo Per ieri Verde Bagnando Per ieri Iubia Purpura 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 Allora Allora Andiamo qua su YouTube Allora Allora Siete d'accordo con la teletrodaca? Sì, il CRIF è d'accordo e il CRIF è d'accordo Ale Sì, va bene così Sì, va bene così Sì, 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 loro due sono i rappresentanti dei creditori, va bene Sì, va bene Sì, va bene Lo show del 13 di maggio Il 13 maggio Io ho due notizie di Iubia Purpura Vai pure, vai pure Tanto vorrei che caricate la cosa La big blue shine mix ha mandato in scena un incontro a 3 Sì Trios, quindi 3 contro 3 contro 3, ok? Sì L'imperatore Asteca Sì Il Bendito E Elemental Ok Che non è un formaggio, che non è un noto formaggio svizzero Non è Elemental, no, è Elemental Elemental Ok Poi abbiamo i Lost Vibers Con la formazione cibernetico, Toxin e latico Ok E poi l'ultima squadra è composta da Eligo del Vichingo Sì Sì E Bandito Ma, guarda Se dovrebbe essere stata molto incerta Come nota Ma credo Credo Che il Vichingo, Psycho Clown e Bandito Hanno vinto Sì Sì Ha soldi più carini ultimamente, eh Quella federazione lì Perché hanno fatto uno show recentemente Che volevo recuperare Recentemente intendo una settimana o due fa Ancora Certo La federazione di Bandito Voi che faccia sui gruppi No Cioè in realtà La questione è che Prima ne facevo uno o due all'anno Almeno trasmessi su Su Masluce Ce ne erano un paio all'anno Adesso in un mese Me ne sparano due In meno di un mese Ma perché adesso è andata Marisela Così E via E via E via Sì Allora Io sto mettendo La seconda news Ne è nuova Ne è nuova Abbiamo il 26 di giugno In Argy O Luce Libre Una Lucia di questo Caballera Contra Caballera Enrico del Pirata Morgan Contro il Tecano Junior Wow L'ultima Nuova E qua però Diciamo Non ho visto il match Perché Tra noi tre Poteva vederlo solo Il buon Enrico In quanto abbonato ai W Argy La W Argy È uno slancio di originalità Cosa ha fatto? Ha preso Un match di triple mania Ossere Vigliano Quarto E Psycoclown E ci ha tirato su un 4 contro 4 Con I Viglianos Da una parte E Brassos Dall'altra Vabbè Dai I Viglianos Però il match È disponibile solo esclusivamente Per gli abbonati E Vi ha aspettati due settimane Ed è disponibile per tutti Ok È andato a rialdare con i paesi spesanti Sì Ma in realtà vorrei spiegare un mito Ho tolto Ho tolto l'abbonamento A Maslucia Ah ok Allora Ultimamente Stavamo Cioè ultimamente Da un bel po' di mesi Stavamo guardando soltanto CMLL e AAA Che la facevano da padroni E quindi Siccome carichano tanta roba Ma tanta roba È proprio Super mega indie Al limite con la fuffa Ho detto Vabbè dai Possiamo aspettare magari Una settimana o due in più E poi tanto danno tutto gratuito Quindi Va bene Io sono molto tristi ma va bene Scusate un po' anche io Chi è che dà via per questa bellissima serata? Quando vuole Vado io Vado io Vado io Sì Sì 3 2 1 Via Wow Ma è proprio spettacolare Questo vierne Sì 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 Pubblicità subito Ah ecco qua Va bene Va bene va bene Va bene va bene Sono a 1 2 3 4 5 Allora ci fermiamo adesso Tanto ci sono le Tanto ci sono le presentazioni Aspetta eh Astral è entrato col maledetto scudo di Capitano America Sì Esatto Sì Astral è il primo Chi era? Non ci ho fatto caso Non ho visto Panterita del ring Ah Panterita Poi Forte Panterita Ma è questo senso io Quindi praticamente dovrebbe essere Non alle tre scelta ma Una caída Infatti è una caída 2 contro 2 alla caída Cioè Ci fermiamo a 3,16 che così Fabri arriva A 3,16? Sì come Austin No scusami Perché mi segnava a 3,16? A 41 secondi Io fa 41 secondi Così almeno 41 secondi Chiedo schiuma Ci sono Ci sei? Pronto? Sì Aspettate ho fatto un casino ma c'era eh Arrivo ho fatto un casino Ho sbagliato tasto Aspetta Sta caricando Arriva 41 Ok Vai 3,2,1 Via Ok E subito azione scoppiettante all'interno del ring Non li conosco Ammetto Non li conosco questi due E sono i due che hanno presentato prima Sono Atlas Atlas ok Ma quello che ha la testa dorata È Inquisidor Inquisidor Ok No perché i I piccolini non li conosco tanto Ale ti dice che Su Masolus al limite Lui si guarda la caos Beh ma non guardi le WRG che fa degli show sempre così Ma infatti Un pepati No però la Big Lucha seguila La Big Lucha seguila Fa sempre dei main event veramente ottimi perché grossomodo prima si esibiscono gli allievi di bandido i più bravi e quindi è tutta gente giovane che praticamente sono i loro primi match e poi però magari ti becchio un pentagon contro bandido così a caso dei bot senza senso Tra cui è il bendito E il bendito E il bendito Quello è forte l'ho visto un paio di volte E come ci dice Cliff è vero è vero è vero è vero Subito fatto le pubblicità Assidergo Ah sì Confianza Confianza anche a chi Eh ragazzi Abbiamo una 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 prima fase del match che è un pochino macchinosa un pochino lenta Sì Atalas com'è il nome preciso? Mi da dire Atalas Astralis L'Astral Scusa Astral L'Astral E Inquisidor stanno ancora facendo un po' di Ma direi Astral Più meglio Ma Astral è identico a Dragon Lee Sì 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 Anche la maschera è molto scimile Avete mai visto voi chat Avete mai visto Dragon Lee e Astral nella stessa stanza? No io no No E anche Leo e Astral nella stessa stanza No È vero Ciao Jacopo Grande Jacopo Fanno per stringersi il manone ma no Capiamo subito chi è il rudos della situazione Attenzione Diamo a Cesare quel che è di Cesare Non è Jacopo Ortis No No Non è Jacopo Ortis Quindi le sue lettere Sono Mark di Panterita Quindi sono contento di vederlo in azione Perché si vede un pochino poco Spesso i suoi incontri sono tagliati Per limiti di tempo Ma per via della sua velocità panteresca Sono tagliati Sì E guardate Jacopo cosa ha fatto Guardate cosa ha fatto Jacopo Un grande Jacopo che si è abbonato per 14 mesi Ma che bello Voi che vi mascherate dietro Ultimo Guerrero E dietro il cane di Enrico Tra l'altro che maschera super killer ha Non so come si chiama Quale di Panterita Panterita o Ryder Ryder Cioè che cacchi di maschera spaziale ha Si chiama Ryder e lo fa proprio perché va poi ai raduni Ok È proprio da scelta È proprio da scelta La tutina Sembra proprio con le bande quelle laterali dei motociclisti È vero È vero Come cantavano gli schianto sulle belle momma Per chi non lo sta guardando e quindi si sta immaginando questo incontro con noi E Ryder è scritto come il vecchio biscotto Sì Il Ryder Ce lo ricorderemo soltanto Io Cliff Forse voi due Non lo so Io non me lo ricordo Era quello più buono del Twix E poi il signor Twix ha preso tutto E ha colto Ryder Ah no ho capito Pensavo un biscotto tipo Molino Bianco No Sì sì è un vago ricordo Tra l'altro Tra l'altro Ryder ha fatto un salto non sensi in mezzo al ring Ma Sì E continuano a fare uno scambio abbastanza veloce di pirouette e balsielli Sì al momento è ancora tutto in equilibrio Ora fanno entrare di nuovo in Chisidor da un lato e Al Tras dall'altro È la seconda volta che i Rudos fanno la finta dello stringere la mano Sì Al Tras ha deciso di entrare in modo sobrio comunque Sì sì Praticamente con un Mussolta entrato Però rimbalzando da una corda all'altra Quindi non proprio un Mussolta E' abbastanza impercettibile Ma noi con gli occhi attenti di Tensin l'abbiamo amato Ha corretto la posizione sul ring di Inchisidor Ricordiamo il gesto preferito di Tensin Che è quello del DP Yoga Ah sì 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 Esatto Della Yoga Della Yoga sì 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 Lui è Slamis Ragazzi cosa sta facendo questo ragazzi Ma Al Tras sta già per diventare tra gli idoli E si mette in posa come un Neolimpico Ma dove l'avevano nascosto? Classica finta Come un Neolimpico È vero Perché parla così Ma di nuovo pubblicità che cazzo è? È vero è vero è vero Come pubblicità fermi E con il fisico di un gladiador No Io sono a 2.18 Però quella pubblicità lì anche basta Io sono a 6.18 No a 6.19 Non ce la posso capire oggi Scusate Io a 6.16 6.16 vi dico quando arrivo a 18 Sì 18 Pronti via Via Quindi testa a testa tra Panterita e Inchisidor Sì Panterita e Inchisidor Esatto Meno male Diciamo che insospettabilità dei 4 il più paracarro in Inchisidor Sì totalmente Sì Anche adesso Panterita è caduto male Sì infatti Però al momento il migliore di tutti è Outras al momento Sì 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 Poi perché Raider ha fatto sto gesto che non ci fa un cazzo Ma perché Inchisidor se ne sta andando mentre l'altro è sul ring soprattutto Perché sta preparando qualcosa di bello lo so già Lo so già Lo so già Perché sta sentito che la bianca è molto paracarra Ok si sta preparando di subire una raccarrana sull'anno Sì Panterita Panterita vabbè ha deciso di fare la raccarrana a destra ma anche da fuori al ring Sì Ma che cazzo ma quanto sono bravi Fortissimo Veramente Dai su Datemi Panterita contro al Tras Ah no ma sono insieme Non potete Ancora un po' una posa come un Deo Olimpico Un Deo Olimpico Un Deo Olimpico Grande Mico Mira Mira Con il corpo di un gladiador È sempre un po' istituto luce eh Sì Cosa non sta facendo sto ragazzo Cosa non sta facendo sto ragazzo Basta che gli togliate quell'uomo di mezzo Fatelo combattere contro chiunque altro Ma non contro questo guido Sgambetto sulla corda A palca Al Tras Ma poi Inchisidor arriva con un drop kick sul petto E guarda Ace come nota tutto E pulizia delle mosse sempre Le mosse sempre ottime Certo Un drop kick Possiamo dirlo Un drop kick squisitamente eseguito A che minuto siamo? Se tu che segui il resto di giapponese Dovresti sapere che la vera Forbidden Door E tra SMLL e NJPW No NJPW Quell'altra rubetta là di Jacksonville Cliff adesso siamo a 8.20 Sì Ragazzi la vera Forbidden Door però È stata con la NOAA Che licenziato Licenziato quel maledetto di Dinosawa Adesso sta facendo degli show della Madonna E tra l'altro stanno per sparare fuori Piccolo Marca d'Ariatto Di DT versus NOAA Quella è la Forbidden Door del 2020 E si fanno Cyber Fight Festival Sì Come adesso tutti i giugni Fanno Cyber Fight Festival Quella quella sì che è una Forbidden Door Quando vedi del Messico e in Giappone Allora sì che sbrodoli Sì sì Ma il SMLL in Giappone Cioè non è già più Forbidden Door È un sogno che diventa realtà Cioè è diverso Esatto Sì è una solida certezza Cioè usare un Vendono solide certezze Con tanto di abbronzatura Finta Bello questo però ragazzi Ryder ha tirato un doppio calcio a Panterita Che era legato sulle corde del ring Perché adesso in Messico si sanno legare anche sulle corde del ring Una doble patata Una doble patata Volando E lo butta via come una pelle Ah no scusa No 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 Non c'è Enrico con gli occhiali da sole Se vuoi adesso mi metto con gli occhiali da sole però non vedrei il match perché sono super ceccato Stanno cercando di prendere Altras e fargli molto male ma noi sappiamo che esisterà perché vincerà lui da solo Sì Allora adesso Ryder mette Altras nelle Attenzione ragazzi è un laccio messicano questo è un laccio messicano Era lui eh era lui Ah si è detto di due secondi ok ok Però il problema è che 8 e 20 te l'abbiamo detto 15 minuti fa Sì Quindi No che cosa che cosa È indietro di qualche infondi Io Ah ok Perché non sto seguendo la chat scusate Ce l'ho aperto stessa su pc Cioè che non guardi coloro che ti omaggiano e ti idolatrano Eh adesso accenderò Cioè accenderò col cellulare Ok Cosicché io possa leggere ciò che scrivono in tempo reale Ah sono Io vorrei tranquillizzare Fabrizio Che ho uno sguardo basso non perché sto per svenire dalla fama Perché ho la finestrella del match che mi sta in basso però potrei Perché sei già svenuto dalla fama Esatto La metto a posto Guarda Oh ecco Vedete la alzo e eccola qua La mette Guarda faccio una foto e te la mando vedi come Come sta venendo insieme E sarà un momento bellissimo questo È stupendo Dove ci accocoloremo io e Leo Comunque ragazzi noi che adesso abbiamo un numero del SMLL Va che goduria Va che goduria Sì Noi che adesso abbiamo un numero del SMLL E facciamo una chiamata Va che bello Va che bello Che bello Facciamo una chiamata e diciamo soltanto Inquisidor no mas Se ti chiamassi Leonardo ti beccerai duro in questo momento Ma Un nostro amore sarebbe diciamo diviso da un ring del SMLL Esatto Cosa più bella Adesso però Altrass è preso a terra e vediamo Inquisidor e Ryder cosa vuole fare Che guardano Astral è steso in mezzo al ring Come una pelle Altrass che è astrali Continua a cambiare Esatto E due rudos che lo guardano come due vecchi guardano il lavoro di posa della febbra Sì ma non hanno approfittato della situazione No No E così Altrass Non mi lanciano contro le corde ma lui prende Diciamo ci rimbalza nemmeno fosse un flipper qualsiasi Arracarra E si riesce a liberare Cosa ha fatto Gioisce col pubblico Cioè per la vita di corde adesso Ah se prende però un ceffone da Inquisidor Mentre il terzo annuncio Terzo annuncio Estende il buon pad Il buon Inquisidor No davvero terzo annuncio Giuro terzo annuncio Cazzo tre annuncio in dieci minuti Allora scattiamo tutti Sì Io sono a 12.35 12.44 Vai No aspetta Via Ok Via Ciao 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 Dark Ciao Ciao Dark Ciao Sì Vuole buttarsi sulla tonnara che si è formata lì sotto Sì Panterita ha deciso di buttarsi su tutti i fuori ring Fuori star press Fuori star press Fuori star press Sempre delicato Sì Con un volo dalla terza corda Perché sennò È già fatto fatica a cadere Attenzione che poi potrebbe esserci la chiusura I due Tecnicos che se li caricano e se li scaricano come Sono saliti sulle corde Vediamo se fanno la stessa mossa Sì Pare di sì Mi sembra posizionato maluccio il nostro rider Ma Ah no Un 4.50 però Si sono presi una battata incredibile sulla faccia entrambi Si sono tolti due rudos Entrambi rudos sul panterita che non ci sta E combatte come una panterita Però adesso viene preso panterita Può essere la mossa più bella del mondo Vuli la codebreaker così che bella 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 Inquisitor è salito su Bella è la codebreaker praticamente però con il compare dove Inquisitor sta facendo la mossa di sofferenza Panterita ha ceduto è rimasto soltanto al trasso A stral pure A stral A stral Vai permesso a stral A stral Attenzione insieme a lei non vuole regalarci neanche la gioia di tenere la contesa sul filo del rasoio diciamo No perché qui Ryder ha buttato giù a stral A stral Fini da qua 1, 2, 3 Perché lei ha fatto la stonebreaker quella Era uguale più o meno Stonebreaker Tranne che questa era fatta bene Sì Se si no l'ha caricato anche in maniera diversa però poi al finale della mossa era identico Perché al final non passa nada Esatto Passe lo che passa Ma vediamo anche quello che succede in mezzo oppure saltiamo al prossimo Qui non sto guardando la vagonata di fighe e di signorine che inquadrano Sì 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 ok no quella è una cosa importante Tra l'altro vorrei raccontare Inchisidor che si toglie la polvere dalle spalle ma è quello che ha fatto più schifo dei quattro Inchisidor veramente L'unica cosa bella che ha fatto è stata la codebreaker dalla terza corda Bianca la sottomissione che ha fatto era carina era Era bello 17.03 Quindi comunque a partire da 80 dollari messicani ora vi dico che cos'è perché ho visto desde 80 dollari Ora vediamo ah forse sarà la solita agenzia di viaggi molto probabilmente Io sono a 17.03 Io sono a 17.03 signori Ah scusate ho sbadigliato ma a volte Io però durò Sì Continuamos Sì Due Uno Via Ok vediamo a quanto pare c'è una luce femenina e quindi vediamo chi vediamo chi entrerà Io durò questa cosa che insieme a lei fa vedere i replay prima del match Allora abbiamo la guerrera Come hai notato allora entra scadi 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 cosa la magnifica La magnifica Scadi nel giro di due settimane è diventata Abbiamo amato Metallica Metallica Tiffany Tiffany non posso dire niente vediamo se però se posso dirlo questa luce femminile non è che promette no devi essere speranzoso ho visto di gente di esperienza comunque ho notato adesso come li hanno notati adesso come adesso prima era caida ma Leo relevos australiani lo spieghiamo no meglio di no meglio non spiegar la storia lo scoprirà ecco ecco altro momento per cui c'è il sabotaggio a Ugo De Lucia non è ancora cominciato la trasmissione no esatto si 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 dovete fare qualche cosa e noi ci siamo adoperati come delle piccole formichine lavoratrici niente riff e quinta pubblicità mi sta battendo io sono a 3 e lui a 5 io con adblock acceso ho un po' di pubblicità levito di youtube non tutte ma un po' levito ma io l'ho messo sul televisore non posso mettere adblock ah ok minuto te lo dico subito cliff 18.50 tra l'altro vorrei dire che adesso stiamo vedendo un rapido scambio ma è tutto tranne che rapido chi c'è dentro la ring chi c'è dentro la ring la guerrera la guerrera e non è la magnifica l'altra no metallica forse si 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 direi metallica metallica è la guerrera si mi sembrerebbe metallica si perché la magnifica è a bordo ring si 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 poi è smascherata no la magnifica esatto è talmente magnifica che c'è tifani si si tifani e magnifica sono fuori ring si eh se potessimo dire qualcosa su tifani che non possiamo dirlo perché non non vogliamo vendere false speranze è vero questa cruseta brutal ma insomma solo brutta no brutta però sì al momento l'incontro non è da semelel no però è quello che mi aspettavo onestamente sì purtroppo sì perché tra un punto un gruppo di sparute sì non è da semelel ma comunque da vabbè non è da semelel ma è da pay per view della madonna di qualsiasi altra federazione mondiale è da quattro stelle e mezzo di Meltzer più o meno ci riesco però no quello non quattro pan di stelle di Meltzer la guerrera ha deciso di fare capriole come i bambini cioè infatti fa capriole una presso all'altra sì non ben spiegata ai fini del match ma è proprio le capriole sul tatà mi stavo per dire allora vediamo chi è sì sì ehi settimana scorsa altro mondo verso le donne soprattutto è entrata Tiffany nostra contro la Magnifica Tiffany contro Magnifica noi amiamo Tiffany sì chi è più quella l'altra o la terza non mi ricordo non mi ricordo già più i nomi maledizione abbiamo detto quella che è in coppia con Metallica e Amapora Amapora ecco non si fa colpo alto e ferma così in azione subito con un calcio tra le scapole e solita lavatrice qui con la testa e Tiffany sta conducendo il match oh grande ecco con un Iptos ribalta tutto la Magnifica che fa vedere ancora che se vuole due mossette le so fare se vuole si poi è entrata Amapora non so dove sia l'accento di Amapora quindi può essere Amapora o Amapora ma dovrebbe essere Amapora Amapora è bello dovrebbe essere Amapora prima chiude con un Lariat e dopo si fa lanciare in un Iptos orrendo ma lo sapete che nell'intervista che ho visto ieri del Toro e lì qua ci saranno sorprese su quell'intervista sesta pubblicità per Cliff cazzo c'è al Toro hanno chiesto hanno detto dello Sergio Bernardes nati con Andrade la maschera e lui lui ha detto sì sì è nata da tre giovani ragazzi che volevano cambiare le cose non hanno nominato la maschera no non l'hanno nominato lui minuto Chris te lo dico subito siamo al 23 ma cosa sta succedendo non è non è al buio il santità è semplicemente il suo colorito che è diventato così sì sì è un'umido e non ha nominato la c'è un'afa che è tutta nebbia questa è nebbia praticamente non ha nominato la maschera però ha detto che è loro tre hanno creato i losi governabili erano tre amici al bar che volevano cambiare il mondo insieme a lei ma scadi non vi sembra fisicamente in poche settimane aumentata sì cioè per carità è sempre stata una stazza importante però sembra veramente aumentata io me la ricordo ecco per esempio come la metallica esatto io non me la ricordavo così eppure ho cambiato ho cambiato ho cambiato scadi comunque dovremmo essere alla fine della prima caita sì molto brevemente la bambola la dagger driver tiffany powerbomb e un disfadente che hanno schienato la guerrilla e la magnifica si chiede di pregio però eh ragazzi scadi non era da schienare perché è fuori dal ring sì perché esatto era eliminata quindi prima caida alle rudas anche se qui gli ho le storie tese sì è bello ma direttamente lui quando si è messo la parrucca da monnalisa era Elio quello se in chat vedrete l'inquadratura c'è gli ho le storie tese ci sono anche le storie tese dietro e c'era infatti c'era tra l'altro non è proprio Tiger Dryden ma è un pince loco che adesso è il nome della mozza di preciso non mi ricordo pincelocco 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 però sì doppio schienamento di Tiffany e di Amapola Amapola l'Amapola mentre la nostra magnifica si deve rimettere a posto il costume perché abbiamo visto che nello schienamento ha avuto un po' di problema di costume oh ci piace questa signorina Baciotti la signora Galaxy non è Erika vero o no? ma io non so i nomi delle baciotte non sai qual è Erika Canseco? non noi sappiamo i nomi ma di Erika Canseco bisogna sapere ora dobbiamo scoprire come si chiama quella di colore che abbiamo visto la settimana scorsa adesso non è il tuo cuore bacio per Scadi ma Scadi sembra diventata la sorella di Psycho Clown magari lei hai mai visto Scadi e la sorella di Psycho Clown insieme nella stessa stanza? sì sì e sì stavo per dire una cosa che ci avrebbero bannato però sì 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 forse ho capito quindi non dirla attenzione doppia patata stereopatata sì e adesso sono le rudas che 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 fanno il bello e il cattivo tempo in tre sul ring questo match è di una di una bruttezza disarmante purtroppo non è che tristicano a farmi chiudere gli occhi forse anche per sempre addirittura no no è proprio è troppo brawl style non ci puoi brawl style soprattutto veramente è un è un incontro bellissimo di una federazione major americana però per un per il SMLL no no anche perché veniamo dalla settimana scorsa che c'è stato un match femminile veramente ma veramente bello quindi qui comunque si presume una bella proiezione no ha sbagliato il backbreaker non l'ha chiusata in me avevano fatto una bella combinazione e poi sembrava qualcosa di bello invece era un calesse semi cheat sì esatto però comunque Amapola Tiffany e chi è più la terza mi dimentico sempre il nome la Metallica attenzione 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 di buttare fuori la guerrera la Magnifica la Magnifica scusate con un sacco di patate la Magnifica ha rischiato la vita sì vogliono scadi dentro la ring sì Tiffany Tiffany vuole scadi sì in tre vogliono abbatterle gigantesca chop al petto a scadi scadi in balia delle tre delle tre amazzoni le tre amazzoni rudos le tre sgherreras le tre sgherreras ma non so se vi ricordate ogni volta c'è questo terzetto sì c'è questo terzetto di commentatori c'è sempre quello con la voce un po' più stridola no? ogni volta che fai il crossbody in mistico è sempre un oh 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 è vero è vero è vero è vero è vero che cosparse da un come se non vedesse per la prima volta invece quando presumo che è mistico altra pubblicità per click è impressionante 28 e 42 attenzione attenzione che cercano di ribaltare la situazione le tecniche sgherreras che sono messe in un inguente che però le hanno coperto il tendine d'Achille tra l'altro volevo far notare il più brutto european uppercut che abbia mai visto da parte di Scadi cioè è stato più bello la Black Tornado di Schaglioni diciamo diciamo che non è diciamo diciamo che non è Scadi praticamente ha chiuso l'amapola centro del ring schienandola e portandosi a casa la seconda caída perché le altre due hanno fatto fuori e praticamente ha eliminato diciamo dal ring che carina questa è la prima fila al posto european uppercut è diventato un asia più o meno sì 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 tra l'altro molto molto credibile la mossa è però tra l'altro praticamente la schienata l'amapola in mezzo in mezzo al ring salutiamo la schienata con un dropkick dal paletto che è finito corto di un metro sì beh secondo me era molto credibile perché tipo gli ha spiattellato le gambe quindi credo se tu gli dai praticamente con il tacco finale non è che sia proprio il massimo segunda caída alle Tecnicas e ci fanno andare avanti questo sì non è non è comunque Ace non capopo diciamo per ridurre i problemi si va al pareggio per ridurre i problemi dovete seguire a me 30 e 57 io sto Ace Ace per ridurre i problemi ci deve fare il SIG 30 e 57 vuoi schippare questa abilità sì sì assolutamente sì quanta bella splendida no perché dopo la abilità ci sono 47 replay di un match inutile inutile che vediamo no però io aspetta io ho fermato a 30 e 56 su ho fatto un fermo immagine sulla nostra amica Galaxy allora andiamo a 30 e 57 c'è la signorina a baciotto col esatto esatto 30 e 56 quindi 56 e 57 non è confermi io e Leo ti confermiamo con Erika Canseco 57 io ci sono molto carina allora anche voi fermatevi a 30 e 57 prima di partire così ci ringrazierete perché noi guardiamo pensiamo anche a voi sì se ci sono delle donne in chat vi diremo quando fermarvi perché noi pensiamo a voi tutte voi così signore e signori ci siamo 3 2 1 vai caída numero 3 tercera caída un attimo tercera caída sentitela cioè io io prendo soltanto tercera caída la metallica sul ring insieme alla guerrera la guerrera però però per le pari opportunità scusate non sarebbe carino che nei match femminili ci fossero dei signorini baciotti perché io potrei candidarmi magari sì 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 mi piacerebbe molto entrare nel potresti fare da tappeto a scadi eh com'è umano lei non so mi dispiace a me scadi calpestami cioè a me è venuta male questa aracarrana è finita mamma mia ragazzi aracarrana di ultima guerrera stavo dicendo della guerrera veramente sulla metallica veramente brutta sono indietro di un paio di secondi ma fa niente fa niente anche questa glossibix brutta c'è tanto vecchiume sul ring hanno cambiato l'arbitro rispetto a prima me ne sono accorto ora sì età dell'atlete avanzata è perché insieme a scadi non ci stavo no 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 mi dissocio mi dissocio mi dissocio se l'è presa in faccia secondo me secondo me lei non ha sentito e Tiffany allora vediamo Tiffany con la guerrera adesso no ma è veramente provano a camelclutch Tiffany sta provando una camelclutch sulla guerrera è veramente duro da vedere questo match però viene interrotta la magnifica la presa per i cappelli no gente è brutto questo incontro si fa fatica si fa fatica purtroppo hanno deciso di mettere le più anziane del SMLL tutte contro forse è meglio così ce le togliamo per un bel po' di settimana poi dopo le riportano nell'RSA di fiducia si però veramente patiscono patiscono ma più che altro che anche un match del minutaggio lungo oh ribadiamo se fosse in una all elite da BWI ninja pen c'era sarebbe main event del pay per view più bello della storia siamo nel SMLL quindi scadi attenzione vabbè questo non male indietro bello bello questo si fa per il conteggio poi dopo arrivano un break breaker però diciamo un impaling break breaker praticamente si esatto però diciamo che praticamente vengono puntualmente fermati i conteggi con la presa per i capelli si e hanno tutti i capelli lunghi quindi è facile fare tutti quei capelli lunghi quindi è facile fermarle così si cosa vorrei vedere in questi casi visto che c'è scadi 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 si è liberato a modi vado spencer è quello scoprire meno male che l'ha fatto cosa ha fatto scadi ma cosa ha fatto cioè prevede ha accennato un moonsault ma non l'ha fatto semplicemente andando di spalla contro le altre e si ma guarda adesso una spia dalla seconda corda ma grande scadi ma grande scadi allora cosa fa va fuori attenzione se ne va negli spagliatoi adesso no no per me fa qualcosa adesso fermatela prima che si faccia male qualcuno fermatela doppio schienamento infatti se ne va negli spagliatori non ha fatto nulla perché Tiffany e amapola schienate schienate dalla guerrera magnifica con scadi che se ne andava verso benissimo perché allora praticamente scadia voleva distrare l'avversario facendo finta ora preparo si è messa a mangiare un po' di maionese maio innaffiata al tè alla mattina innaffiata un po' di maionese di olio bardal e quindi no ma ragazzi ma io devo andare assolutamente a fare un viernes spettacolare all'arena messico andare a cuccare a un sacco di gente tra l'altro vediamo anche le ragazze giapponesi che vengono a imparare che cos'è la luce a libre e certo così tornano in Giappone ce n'è per tutti i gusti di donne comunque di nuovo Elio ce n'è per tutti è impressionante fa veramente paura io mi sono trovato paura a vedere questo oggetto quindi niente andiamo avanti dimentichiamo questo incontro allora andiamo a 37 e 31 e vi faccio un bel regalo 37 e 31 e 31 sai chi sono tutti i lotatori? sì non vi preoccupare sono i Los Laguneros quindi abbiamo ultimo guerrero e gran guerrero con Atlantis Junior dall'altra parte Sagrado e il Los che mi hanno sviato ok io mi sono innamorato ragazzi ecco qua di chi? e ecco delle signorine baciotte in generale che hanno appena dato un bacio a noi tre e non a voglia della chat l'hanno dato a noi tre vai 3 2 1 via ci hanno fatto anche il cuoricino anche il cuoricino che terra lì non ti montare la testa perché è tutto per noi quello sì esatto che si parte con un coppino sì il modo migliore per iniziare un incontro copinasso ultimo guerrero è uno dei due Melo Diablo fuori dal ring sì che fa per secondate qual è? 1 o 2? io punto all'1 ok così ultimo guerrero ho vestito in giallo che mi piace tantissimo quel ring era sagrado era sagrado era sagrado ah è vero sagrado è quello col pannolone allora se volete distinguere i tre e Melo Diablo 1 e Boss 1 è un casino è un discorso di cosa è un casino di stinguo sagrado invece non ha la striscia qua nella maschera esatto non ha la croce sì e poi la striscia della maschera è un po' più tipo faccia di di Punisher infatti adesso c'è un e me lo diavolo ce l'ha scritto nella maschera dimmi di sì dimmi di sì mi pare di no non ho letto no non ce l'hanno scritto nella maschera non li so distinguere sicuramente saranno distinguibili ma non li so distinguere mentre è contro Atlantis Junior sì no non è Atlantis Senior quello guarda che fisico che Atlantis Senior guardiamo perché si è perso le ultime puntate i Los Laguneros Guerreros sono diventati beniamili del pubblico fisicamente non mi sembrava il padre ora guardo bene adesso guardiamo è Junior questo è Junior è un tiro uguale scusate è Junior è Junior sarebbe andato nell'acqua magica non ha la cannottiera quando non ha la cannottiera è Junior perché il Senior era un po' freddino sulla schiena e quindi giustamente si deve entrare la cannottiera sappiate che con Atlantis state vedendo uno dei tre migliori lotatori del SMLL io ho chiesto era uno dei tre migliori del mondo e Cliff lo sa perché gli abbiamo fatto fare una clip su Atlantis questa Standing Splash che ci è piaciuta molto molto anni 80 molto bella tra l'altro ricordiamo che ha il costume di Tiger Mask proprio quell'originale del 1981 qui evidentemente è molto diffuso è molto diffuso in questo match mettere le mutande sopra i pantaloni sì perché sono tutti e tre qual è la mascota che hanno che mascota hanno è quella lì con la faccia con l'aquilota da Tucano lì che cazzo è intanto vorrei ricordare a tutto il pubblico che ci segue di sintonizzarvi sempre su Radio Magic del 97.7 ricordiamolo sempre sì perché vediamo la pubblicità puntualmente sugli schermi in fondo del SMLL e quindi è giusto che voi lo sappiamo è vero Radio Magic 97.7 7.7 dovete prendere però attenzione quella mysticana sì c'è il logico sto cercando la mascota perché in realtà è una di quelle che si vede un po' più spesso i rudos fanno brutto a Ultimo Guerrero sì e ci casca prova scende da Ring non ci dovevi cascare Ultimo perché lui è uno che li utilizza questi trucchetti lo faceva sempre non è che allora non è il Gaeto perché il Gaeto l'hanno licenziato no non è Gaeto no avevo letto il Pechino una roba di questo genere come è? Pechino Pechino una roba di questo genere grazie è facile come ti chiami? ma c'è stato scritto così sulla cosa se fosse stato alto come si chiamava gigante? gigante è gigante gigante c'è un po' di diatriba si discute si discute civilmente o di me o diablo sono dos astrodontici dos gladiadores dos gladiadores che proteggono le mura di Jericho è sempre un po' caratteristico è scatenato è scatenato Ultimo Guerrero Ultimo Guerrero voleva fare la sua mossa finale ma è stato bloccato lo smaldito ecco come si chiamano questi tre insieme lo smaldito il grello di ablone due lo smaldito e se vi chiedete se sembrano maledetti si vuol dire i maledetti sì attenzione comunque questa Irish Whip violentissima contro le barricate atto a spezzare Gran Guerrero è vero adesso per la prima volta che l'hanno buttato fuori dal ring ha fatto talmente tanto e c'è un cane che abbassa perché vuole vedere Atlantis Gran Guerrero no no c'è Enrico quando c'è Enrico non puoi abbagliare e poi ha messo anche l'avatar quello lì col cane mascherato esatto adesso lo tolgo è il Gran Guerrero che è in mezzo a no 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 c'è Enrico non devi abbagliare è contro un po' più colpo dei trelli ti manda in collegio poi Enrico in collegio i tre rivaldi del ring si approfittano del beniamino delle folle che è quel po' sembrava Apollo sono istituto luce attenzione è una mossa di agilità da parte dei gemelli diaboli è andato in cima a prendere il sole come Apollo quando lo portava con il carretto come per fare le giornate di sole ed ecco qua come Achille finalmente Gran Guerrero ecco finalmente un cazzo perché sta prendendo botte Gran Guerrero solo come Achille Gran Guerrero ha la salvietta davanti che gli copre le parti intime è più dente un po' come chi è è la rosa c'è chi si 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 la cosiddetta bandierino davanti alle pute si attenzione Gran 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 Guerrero si praticamente l'hanno l'hanno ribaltato e ha fatto una specie di un soldo di una sorta di una prima caída perché però non è ancora c'era la prima di Junior sappiamo che cazzo fa teoricamente dovrebbero schienarli tutti e tre perché perché ultimo Guerrero comunque c'è bisogno di almeno due su tre dire che siano fuori uso diciamo ok che ultimo Guerrero sta per far cedere un e-mail ed eccede e quindi ripareggio bellissima bellissima ragazzi sono rimasti questa roba che non si è capito no perché sono fuori ring tutti ah è vero sono legali non c'è nessun uomo legale a parte quello quindi la prima caída ma con la sottomissione di ultimo Guerrero si è conclusa la prima caída perché Atlantis ha messo fuori gioco due lottatori è stato Atlantis fuori ring mentre l'ultimo Guerrero ha messo la sottomissione sul terzo lottatore giusto giusto tra l'altro non so come si chiama quella sottomissione la fa anche il Desperado ma la fa da pro diciamo la fa male la fa male e il Desperado fa soltando la parte della gamba e poi prende il braccio qua ultimo Guerrero è andato avanti un'ora e mezza a fare anche altre cose tra l'altro notare la finezza del Siemedel che solitamente indica i due team come Rudos e Technikos e qua invece non essendoci un allineamento preciso per il team di ultimo Guerrero mette i nomi mette i nomi quindi la finezza facendoci capire che in realtà l'ultimo Guerrero è ancora è un po' un tweener Dyle Miorina la caída buonasera abbiamo la nostra amica la seconda caída mettiamo anch'io la Meor è comunque ribadiamo 97.7 Erika Canseco sì la Meor ce l'aveva scritto nella maglia come si chiama il Pepe comincia per Pe il nome del nanetto sì non mi ricordo perché so che l'ho visto contro Chamwell il Gaeto atomico e boh non mi ricordo ok piegate e il Pecchio e il Pecchio no Pecchio Attenzione bruttissimo los sbaldidos vogliono tra l'altro stanno prendendo per il culo i diciamo Guerrero e Atlanti stanno prendendo per il culo Gran Guerrero che ti sei fatto schienare gne 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 sì Gran Guerrero che ha fatto più minuti steso che in piedi questo meccanese di secondo nome farai no è esatto io vorrei far notare che dello smalditos ci sono adesso sul ring gemellone gemello 2 no sagrato però sta atteso stava diciamo appoggiato alle corde come una sciura appoggiata alla finestra nel farsi i cazzi degli altri a me invece a me ardo che stava aspettando la sua prega ah sì sì si vedeva si vede loro vanno di rapina ma attenzione questo atlantes junior che cerca di resistere all'azione combinata di tutti e tre ma arriva bloccato posso dire una cosa non mi picchiate se anche questo incontro non è che lo sappiamo che quando ci sono di mezzo i gemelli diavolo cioè al momento il migliore è stato il primo incontro sì quindi contanto ha fatto solo una cosa non è bloccato da quegli altri cinque ricordiamo che lo schema e los diablos sono praticamente uno forse l'unico tag team naturale diciamo del simele e non non è che che siamo fortissimi attenzione c'è un racconto ma vediamo se e questa prossima ci va su netta perché c'era soltanto lui dentro e sì c'era solo lui quindi atlantes schienato e seconda caida ai rudos ai los malditos e quindi vediamo un ultimo guerrero tra l'altro sotto tono rispetto alle ultime prove che abbiamo visto poco gran guerrero sta trascinando tutti dietro tutti tutti a sé tutti 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 ma anche questa mossa finale non è che va ho visto ricordato un po marchio si 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 è giusto un po uno maggio è il macio è l'ombre macio della luce libera ma ci si no anche questo incontro lascia molto desiderare comunque e questa questa settimana no questa settimana no tercera caida si comincia le cose belle di questo messo sono le signori si al momento si la tercera signora la tercera caida era devono decidere si sta facendo la conta su chi va sul ring e decidono per gran guerrero con gran guerrero ha chiesto uno del pubblico di salire al suo posto si gran guerrero comunque grosso vero e sì o finalmente qualcuno che non cade nel nella trappola del ti stringo la mano ma le prende ma guarda quanti pannoloni guarda quanti pannoloni se questi sono i casi convinti anche i migliori sbagliano stasera il tra l'altro cambiando discorso hai visto cosa fate spargarò enrico che ha fatto cosa e spargarò no no allora hanno lui era secondo sì ma ampiamente secondo cioè non veniva ripreso manco se e giustamente finito il giro fine corsa e esulta ecco piccolo problema che non era l'ultimo giro ma era il penultimo è arrivato quinto no davvero ma quando si è accorto quando si è accorto che tutti lo superavano lì era convinto ma ormai era troppo tardi quindi è un deficiente praticamente anche perché si sta giocando il mondiale oddio mio ora fosse arrivato secondo una volta ogni tanto no si sta proprio giocando il mondiale in questo momento quindi attenzione che diamo al solito spot di cercare di levare la maschera ad atlantis si ma il nostro che di intervenire ma il nostro atlantis che è forgiato ad atlantide si verrà su col suo tricorno e vediamo l'ultimo guerrero contro uno dei gemelli diavolo di ultimo guerrero non mi ricordo quale ma abbiamo una curiosità che scoprirete e non posso dire niente e quale quale è molto facile la curiosità la curiosità la curiosità tanto quale avevamo detto su sua su di lui cosa anche la sua mossa classica non è che sia venuta benissimo c'entra il vandalismo c'entra però non so se avete visto come ha cacciato gli altri due per far per fare la rincorsa praticamente con un doppio passo che nemmeno ronaldo quello vero ma strano che non si stia trovando con atlantis è già un po più recente ma che non si stia trovando con gran guerrero è un po lo so stanno sbagliando un po e soprattutto anche atlantis non sta facendo niente di chiesa no 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 fatto solo una cosa ecco adesso con l'abbiamo appena detto e no catapulta per atlantis questo c'è come camminare c'è esatto e la catapulta un gesto atlantis e atlantis appena fatto un gesto quindi ok sta andando fuori la rinca preparate agli hanno non fate di fare la catapulta di nuovo che palle però corre in corso chilometrica si chiede un'altra cosa vediamo cosa chiede intanto si sono trasformati in richiesci ultimo guerrero si esatto fan troppo ridere quando saltano così come dei gibboni e sono convinti di andare in una discoteca degli anni 80 90 puccio a hands up sì 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 anche per più curiosità però per voi noi vediamo sempre immagini dal pubblico e questo è chiaro ormai nessuno prende indossa più la mascherina dentro messico ma perché si vengono le leggi perché seguono le leggi italiane anche loro a ok attenzione doppio superplex però lo stemma del simonella ancora porta la mascherina lo stemma sì ma perché ormai fa le leggi da per sé fa le leggi da per sé e poi comunque è tutto merchandising per loro tra l'altro tra l'altro c'è una rotola gran guerrero ha cercato di azzoppare sagrado sì tirandogli un calcio in pieno ginocchio così che rischio ha rischiato di spaccargli veramente il ginocchio una rotola è pericolosissimo quello che ha fatto fortissima chop gran guerrero ha delle mani che pesano come degli incudimi sì la nostra baseball slide preferita wow è stato veramente un pazzo ultimo guerrero lì eh sì incurante delle rotole altrui ecco che uno del Los Gemelos Diablos e anche l'altro ora salgono sul ring cercando di fermare tre tecnicos possiamo chiamarli c'è tanta gente fuori ring mi sa che la tercera caida arriva adesso sì perché si sono eliminati un po' di gente sono rimasti sagrado un nehemelo e atlantis no oh bella questa stomp con elbow drop sagrado ci ha provato è solo conto di due dice l'arbitro solo conto di due adesso entrano tutti i rudos atlantis fuori tutti i rudos dentro vediamo se vanno a chiudere l'incontro c'è ultimo guerrero ah no c'è anche gran guerrero però però l'hanno preso sono in tre contro due può esserci chiusura d'incontro vediamo no perché gran guerrero ribaltano la situazione può esserci poi pazzia di atlantis e non lo sta guardando nessuno chi si sta per fare la storia forse ebbene sì io sto dietro di qualche secondo è fantastico quello che è successo è stato fantastico è la cosa più bella del mondo come riscattere allora praticamente il match è bruttissimo il match è brutto ah queste cose invece è bellissimo però il match è bruttissimo finale con atlantis che prende la rincorsa si tuffa su tutti e tre lo smalditos scavalcando la terza corda esatto scavalcando la terza corda con l'aiuto di gran guerrero l'ultimo guerrero che schienano tutti e tre allo stesso tempo che bello questo è stato un bel finale e vediamo un brutto incontro diventa occhio qua all'amore che regna sovrano tra queste due tra quella copia ah però quella quella mascherina oh io arrivo sempre un pochino in ritardo guarda come festeggiano dentro si si poi fanno lì il segno delle mani tifosi con la maglia di atlantis con la maschera di atlantis ma cioè atlantis ha praticamente un incontro del cazzo vale la pena vedere il finale io ho visto anche dei tifosi tempo fa con la maschera dello dello scheme los diablos evidentemente erano americani ignari hanno comprato la maschera cazzo si ma purtroppo i foresti sono i foresti allora andiamo a 58 e 59 58 e 57 58 59 facciamo 59 così no sono già 59 ok con questa ferma immagine iconico si con le stelle del si quindi leo oggi è il tuo turno di fare 3 2 1 perché te all'1 puoi cadere facilmente stasera certo quindi signori cominciamo 1 2 3 via è stato l'ultimo numero che sentivate pronunciare da lei esatto attenzione qui c'è un bel po' di gente forte sembrerebbe euforia per entrare sul ring che non è proprio il più forte euforia perché non ha l'accento soberano che è uno dei più forti mistico mistico che è il più forte quindi dovrebbero essere loro 3 contro terribile e loro governabili quindi terribile niebla rocca e anche de oro i fratelli anche de oro e niebla rocca i fratelli i fratelli munho però qua si prospetta veramente un bel incontro si relevo grazie ciao signorina pare una caida ciao johnny buonasera ciao johnny allora johnny anche tu sintonizzi sul canale del siamere youtube se non sei augurare 07 e vediamo il menet insieme te lo dico subito allora mettiamo tutti la pausa 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 un'ora e tredici eis anche te johnny vai di un'ora e tredici ditemi quando ci siete e io vado a io noi voi loro andiamo col play si secondo me questo incontro è durato 25 minuti per davvero può essere si 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 magari togli un qualche minuto finale che fanno vedere replay e festeggiano in mezzo c'è mistico che è un campione soberano che è un campione e anche il de oro in ebla rocca che sono campioni si soltanto euforia e euforia e terribile non dovrebbero essere campioni eh si leo ormai è veramente un uomo distrutto no io non ce la faccio è letteralmente distrutto cioè mi sto preoccupando no veramente dacci un recapito che se no 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 non li voglio non li voglio fatevi morire in pace un due tre via via ah no scusa allora su ring euforia chi comincia euforia e terribile qui diciamo cominciare i pesi massimi ok si ma se si euforia e terribile però euforia è bravo e comunque guardiamo che euforia il terribile se non erro sono infaida perché euforia aveva il titolo completo nazionale e gliel'ha tolto il terribile sì vero 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 infatti le cose belle vanno tenute vanno tenute esatto sì 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 scambio più tecnico che aereo all'inizio quindi sì sì adesso con euforia e terribile di aereo forse quello lì che prendono all'aeroporto a Città di Messico con questi due omoni esatto questi due omoni soprattutto è euforia lasciate dare comunque è euforia fisicamente è euforia è valido sì 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 terribile il fatto che si metta la maschera fa temere che fisicamente non sia al massimo puro catch puro catch sì 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 a momento è luce libre di quella attenzione il tremendo larga gambe sì è in spaccata totale il signore lo vuoi portare allo stremo delle delle sue capacità inguinale e si guardano brutto tra l'altro è euforia dei belli occhi da mosca sì però è straverso la sua scambio di ciopo violentissimo ciopo era terribile è un scardo quasi inespressivo sì sempre a dire come dire che sì noi potevamo combattere in old japan 30 anni fa ha deciso di entrare in mistico al posto di euforia appena euforia è andato fuori dal ring il mistico è entrato dicendo mai rotti i coglioni si sente fin da qua la ora potentissima che ha affanculo avevo paura fosse un terremoto invece sono urla per mistico ci si sgola e mistico subito in velocità cambia registro al match il primo tiger musk fu mandato per 3-5 anni in messico a imparare lo stile ma che cosa fa ragazzi sì vabbè mistico è entrato niebla roja o angel de oro mi pare angel de oro no è niebla roja niebla roja e subito si berano che va a ristabilire le gerarchie si berano contro angel de oro in questo momento ci si può divertire attenzione ma che buh ma che bello bello precisissimo bello bello è dato per fare un moonsault saltando sulla corda ovviamente ma angel de oro ha una specie di coda no è niebla roja questo è nieblone è nieblone quello non è angel de oro ora comunque i losengobernables vabbè noi losengobernables stanno picchiando il soberano si contro uno tra con due c'è anche euforia dentro io però mi sembra d'aver letto dalle regole non dovrebbe essere tres caidas dovrebbe essere solamente una caida cos'era un'increibile eh sì io ho letto incredibile io ho letto incredibile se è incredibile è una caida carina questa mossa è fatta bene vero vero hanno tirato su euforia l'hanno tirato buttato addosso al soberano di peso ovviamente mistico adesso sul ring insieme a niebla che prova a dargli la mano sì e invece il tiro è stato un po' il liet motive della serata quella della mano sì attenzione adesso in due è il terribile niebla che tre contro uno tre contro uno terribile che fa di mistico quello che vuole e doppio calcio dei fratelli anche di oro uno due tre schienato mistico bella però dai credibile come prima era caida sì quindi era la prima era caida ok però c'era scritto incredibile comunque per chi non sta per chi non stava guardando non so se è l'euforia del pubblico era fuori del pubblico era molto presibile sì 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 si era già messo i blue jeans comunque prima caida è andata via veloce sì 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 prima era caida è andata via abbastanza veloce e hanno vinto i rudos però quando ci sono loro insieme è dura che perdono eh ha fatto girare il mistico come una trottola e poi doppio dropkick doppio dropkick e dei fratelloni Angel de Oro e Niebla Roja e Niebla Roja schiena mistico attenzione si fa si va alla seconda caida seconda caida ciao 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 c'è che succede due che si stanno picchiando fuori ring sono Soberano e uno dei due io niente Niebla Roja e Angel de Oro dico non mi a caso perché tanto sono uguali e continua il pestaggio fuori dal ring mentre c'è il terribile che carica sul paletto quello che sembrava mistico si però l'inquadratura è fuori ring in questo momento ma non si è capito come si è liberato e inneggia il pubblico mentre fuori l'euforia viene sbattuto nella bala austra e va avanti un pestaggio ai danni dei due tecnicos il tentativo di Niebla Roja di togliere la masca di Soberano ribadisco io dico Niebla Roja per aver messo tutti Niebla Roja è ormai un escluso terribile terribile che ricordiamo è fratello brutto di Jay White e lo smaschera ma recupera velocemente la maschera ma lo smaschera di nuovo e si rimaschera nuovamente questa cosa mi ricorda un incontro che non avrei dovuto vedere di Rampage o meglio avrei dovuto averli ma non quel finale che mi sono anche rotto le balle si e scaricano Soberano dal paletto con un sacco di patate e a centro rendi in balia degli eventi di nuovo gli rompono la maschera però interviene questa volta l'arbitro ma viene direttamente un incontro molto molto bello adesso è un po' sfasciato dal discorso maschera si 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 seconda che Ida spezza totalmente il ritmo almeno nella prima fase si va di puro brawl si va salta anche se c'è Enrico puoi saltare questa volta è euforia ma sta che lì ti veda cioè lì non ti vuole vedere il problema è quello no non è quello vabbè terribile che ha parecchia euforia per gli altri e triplo drop kick al centro del ring con risate di mia bla roca ci si appoggia si telefona ma secondo me ha dato appuntamento a qualcuno del pubblico si può essere si 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 io gli ho visto io gli ho visto proprio fare il segno 3 2 4 9 5 12 e adesso cercano di strappare la maschera mistico in realtà cercano di strappargli via pure l'occhio però da quello che ho visto si comunque c'è i losengobernables e i nuoi losengobernables sono padroni assoluti dell'incontro dominando il lungo e il largo sono padroni assoluti del seme l'el ma questa volta c'è il risveglio di mistico ma c'è da considerare una cosa molto brevemente sono la vera unica stable del seme l'el eh sì diciamo che di stable ce ne sono diversi il problema è che questa magari è quella un pochino più riuscibile che altro loro li mettono spesso sì perché ecco e euforia per esempio fa parte dei losi infernales un'altra che si è vista abbastanza vero vero ecco vabbè il fuori giustamente ha bucciato due mosse una dietro l'altra le ha bocciate però è riuscito a schienare uno dei due fratelloni sì e questa volta attenzione la mistica superibile la mistica scomming la mistica si cede la mistica si cede e si sta zitti la mossa finale più bella del mondo eh sì e niente i tecnicos hanno hanno preso la seconda e la seconda però ricordiamo che è la titanica che è quasi uguale si va dietro e poi si si sottolinea il bar quindi praticamente uno a uno ma per lo snowsing governables è già una sconfitta in quanto loro vincono sempre due a zero due a zero comunque che eleganza è questo salto fuori dal ring di sud molto bello ora che hanno fatto vedere bene con il replay hanno fatto vedere il replay anche la bocciata di euforio purtroppo si guarda 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 che bella e si gira e la chiude mamma mia con il vomito sul muscolo per fare ancora più male che bello e Soberano che entra soltanto per risultare perché già sapeva che nessuno esce in denne della mistica sì è impossibile uscire in denne della mistica di nuovo come il recca praticamente è un déjà vu della seconda caida con Soberano ancora fuori con uno dei due fratelli ma questa volta arriva arriva niente po' di meno che Mistico dargli da un manforte e Soberano è saluto sulle scale Soberano cosa vuole fare sullo stage come si suol dire sullo stage e va di plancia va di plancia in plancia contro le barricate di vetro fatta molto bene questa plancia molto molto bella e adesso sono tutti ad aspettare chi è di Bieloroja o Angale de Oro tanto non lo capirò mai molto bello molto molto bello Leonardo ormai sempre più distrutto no è con noi è con noi sto leggendo una roba interessante è Euphoria prima di chiamarsi Euphoria aveva un altro nome cioè? questo è il Soberano Junior ah davvero? si wow questo è un plot twist si 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 vorrei sapere chi è Soberano Junior non ho mai visto il match prima dell'Euphoria cosa c'è? prima dell'Euphoria c'era il Soberano Junior e il Soberano Junior prima di chiamarsi e invece era il Forza era il dietro del Soberano si quello lo sapevo davvero? si perché il Soberano ma esce fuori che sono parenti? ma cosa sta facendo ragazzi? non so se avete visto che cosa sta facendo lo vedo a vedere si forse sono parenti sai? allora è il padre è il padre? si no che bello ragazzi e voilà signore e fa pieni di gioia qui qui sono lacrime sono lacrime ormai sono lacrime qua che sgorgano grazie a scantare tanto so prima prima abbiamo parlato di Mal Leo e io ti dico ah no non era lui comunque lacrime il Soberano che sta praticamente tenendo in pugno il ring e ha appena detto ad Euforia me lo compri papà me lo compri papà si bufo con gli occhiali con gli occhiali e lo vuole è Soberano lo vuole si si però Euforia non sembra così vecchia nel senso l'ha avuto giovane vent'anni come tutti in Messico come tutti in Messico d'altronde la moglie sicuramente sarà stata minorenne si ma il mio vano motore è troppo vano e poco motore lo illuminerò una candela di cera che non c'era mamma mia wow mistico bello mistico fa brutto al terribile e lo fa brutto bene si è uno che potrebbe fare tutto anche a Ray Fene in XS in serata deve essere però in serata si beh ricordiamo che attualmente Fenix è migliore di lui si però anche quanti anni in meno ah beh certo io però Fenix NsMLL con Soberano Templario Atlantis e ci sono stati NsMLL ma anche del SMLL finché i lotatori restano nel SMLL escluso discorso della New Japan che no sto parlando del SMLL e lo so il New Japan vedi che abbaia per la nominata Enrico non vuole grandi numeri comunque dicevo i lotatori del SMLL sembrano quelli che come si dice che restano in Messico nel senso che vogliono restare lì nel SMLL non hanno la cosa di andare infatti poi quando si spostano anche perché il SMLL come contratti deve essere abbastanza chiuso eh sì perché non vedi quasi mai gente in giro ho visto negli altri paesi sì vedi Stefani Vacchera è spesso negli Stati Uniti però io vedo che ogni tanto raramente gira a Mistico però in eventi particolari credo che vadano anche in base all'avversario sai eh credo anch'io in base all'avversario gli daranno ok attenzione mentre quelle delle treplea sono sempre in giro ovunque sì però in Messico vedi Bandido aveva detto che in Messico escluso Big Lucia perché la sua federazione non può fare niente adesso e vabbè adesso poi ci sono anche e se ci dice che la Vacher è stata in Stardom è la Stardom che è stata nella Vacher perché la Vacher ha insegnato la Stardom come si lotta Stefania di secondo noi fa Stardom guarda le grasse risate del pubblico se la canta e se la suona e se la suona e se la canta esatto e se la canta esatto quella ancora di più wow Messico prova un po' a volare un po' qua e un po' là fa fare brutta figura ai fratellini e sì fantastico moonsault non succede niente con questo moonsault perché ovviamente lui è dovuto saltare sulla seconda corda e farlo in volo porca puttana è pimento sì grande ecco chi è terribile adriam pimento adriam pimento ma pimento era solo da aiutare gli occhi era anche quello dai wrg pimento sì è vero in Messico ci sono un po' tanti pimenti perché ci sono tante persone che hanno la tequila dalla parte giusta sì pimento per chi non lo sapesse è un personaggio di Brooklyn Nine-Nine guardate con la serie che è una delle più belle di tutti i tempi bello crossbody bellissimo crossbody solo per un colpo di due tra l'altro Leo essendomi tolto Brooklyn Nine-Nine essendomi tolto Netflix se mettono le ultime due stagioni su Netflix sono fottuto spero che qualcuno le prenda sì 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 lo vediamo ma sicuramente attenzione occhio style clash va per il conteggio sul mistico no interrotto l'inforia adesso dite ma copiato AJ Styles no si chiamava terrible clash terrible clash era la terrible clash è stato maestro di AJ Styles comunque Enrico in versione Tamarra come lo vedi Leo? in versione palestra in versione palestra però lui ha cominciato a fare palestra quindi è giusto che mi sono fatto male in un settimana mi sono fatto male giusto giusto beh significa che hai lavorato parecchio bravo cioè madonna allora è morto praticamente sì allora avrete da stare in questa e uforia teneva in verticale come il vertical suplex e niebla roca e il soberano junior doveva dare i drop che chiuderemo dopo il suplex no è arrivato il drop che il soberano però è uforia purtroppo oriente si è mangiato la la suplex e l'ha fatto cadere dominosamente a terra vediamo di solito tutti e terra c'è un po' di adesso terribile vediamo se provo un altro per me non ci sarà schienamento infatti soberano qua è stato fermato perché dopo aver fatto il drop che si è girato verso suo padre sei orgoglioso di me sì 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 tra l'altro adesso vediamo proprio il signor papito di di si prospetta da tower of doom riuscita è arrivata è terribile è terribile va a bloccare no va a schienare euforio allora no nessun schienamento praticamente euforia stava schienando scusate terribile stava schienando euforia mentre mister e soberano stavano schienando anche il deore e niebla roca tutti stavano schienando tutti ma conto di due per tutti praticamente ci sarebbero state tre eliminazioni però due di una squadra e una di l'altra e di se la riprova su euforia il più brutto schienamento della storia da parte di era bruttissimo vedere sì ma attenzione euforia viene scaraventato le corde ma si gira in tempo invece no invece sì cosa prova adesso cosa prova un superplex no addirittura lo prende in posizione di tiger suplex fantastico butterfly suplex mistico però non riesce a schienare il terribile però cita anche lui Macho Man Randy Savage sì è sempre gradita questa cosa non va non va tra l'altro il caldo come diceva Raph no 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 non passa esatto il caldo mi sta mettendo lentamente sì anche a me stai prendendo piano piano le mie fattezze sì anche a me piano 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 mi sta portando alla perdizione non ho della liquirizia e la mia la mia pressione sta scendendo in maniera vertiginosa intanto ti metti a dormire tra poco ah sì esatto no andiamo a far serata noi bellissimo siamo after il tornillo più bello del mondo appena visto occhio alla mossa di sottomissione uh Soberano si libera dalla mossa di sottomissione di Nebla Roja per un pelo e adesso va con Hummus schienato di Nebla Roja da Soberano e a quanto pare è lo schienamento decisivo tra l'altro velocità impressionante perché gli altri due erano fuori gioco fuori sì è decisivo velocità impressionante diciamo che uomo della serata è proprio Soberano Junior forte sì purtroppo è stata una serata molto fiatta purtroppo ci sono state serate migliori non ci ha trascinati come doveva settimana scorsa è stato molto molto bello oggi un po' fiacco sì purtroppo sì vediamo due con il cappellino Ferrari sappiamo che il consejo prenderà provvedimenti sì però nonostante questo è incredibile quanto siano veloci la bambina arrabbiatissima era era un meme già fatto vorrei saper cliparla non so per zipparla anche così occupa meno allora io vorrei concludere diciamo con annunciare qual è stato il match che non è stato fatto vedere sì ossia praticamente un sempre alle tre sky da un trio rilevo australiano i wanatos quindi sping e fugaz star black hanno spanto la ola scurita molto scurita quindi akuma dark magic e spanto junior ok che spanto che vai essere sicuramente se me lo mettevano al posto del match femminile non dicevo di no no però c'era la quota rosa anche perché ricordiamo se ne frega della quota rosa a volte lo mette a volte non quando deve mettere le mette non si pone il problema a volte allora deve essere stato messo terribile quello probabilmente andò male qualcosa ma qui la serata il consejo avrà preso provvedimenti qui saltano dita e posti di lavoro sì sì non c'è altra soluzione allora grazie per finire quindi sì chat grazie grazie mille grazie al signor subcomandante flematico grazie al signore santità bocciornoso grazie soprattutto a Fabri il professional fibro signori buonanotte a settimana pronostici di triple mania sì vabbè dai dai andate a dormire andate a dormire andate a dormire sì sì buonanotte 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 darlo in diretta dallo santo buco del luce non ho sentito dillo ancora